La sezione di Polizia Giudiziale della Polizia di Stato presso la Procura di Nocere Inferiore questa mattina ha eseguito due misure cautelari interdittive della durata di un anno per il reato di maltrattamenti nei confronti di una socia e di una collaboratrice scolastica di una scuola materna di Sant'Egidio Monte Albino. Le due donne si sono rese protagoniste, come se vince dalla nota della Procura della Repubblica, di rinnovate e sistematiche minacce, percorse e violenze, gravi coercizioni e punizioni inflitte in danno dei bambini alle medesime affidati.